Pacchi, bidoni, mascherati, tutto in regola. Sì, pronto, mi sente? Siamo l'impresa Grisola Giovanni, lavori edili di Agrigento. Abbiamo bisogno di questo, di quell'altro e anche di un po' di quell'altro ancora. Me lo manda? Il malcapitato, che sarebbe l'azienda o la finanziaria, cade nella trappola. Spedisce la merce oppure anticipa il denaro per l'acquisto. Capita che vi siano dubbi, riserve, perplessità. Sì, la sento. Siete l'impresa Grisola di Agrigento? Scusi, ma avete dei dipendenti, delle buste paga? Certo che sì, rispondevano. Il sistema, lo stratagemma, è più che collaudato, infallibile o quasi. Buste paga? False. Cude per le dichiarazioni dei redditi? Falsi. Contratti di lavoro? Artefatti. E poi, mica si paga in contanti, ma con assegna vuoto, cabriolet, usando conti corrente già chiusi. Un inganno, come il nome dell'operazione dei carabinieri del comando provinciale e della procura della Repubblica di Agrigento. Dieci arresti. Sgominata una presunta banda che da Agrigento avrebbe colpito in mezza Sicilia e anche in tutta Italia. Circa 40 sono le imprese vittime della truffa, che è un reato che si persegue dopo una querela. E tante sono le imprese che hanno presentato la denuncia. Le indagini dai primi mesi delle 2006. Intercettazioni, riscontri. Poi una prova schiacciante. Un prestanome usato dall'impresa Grisola e un detenuto in Belgio, all'oscuro di tutto. Dentro un magazzino dell'impresa Grisola sono stati sequestrati condizionatori, televisori, elettrodomestici, generi alimentari, materiale di ile, ferro, poi anche automobili. Tanta roba per almeno 60.000 euro. Gli arrestati in carcere. Gli agrigentini. Carmelo Capraro, 62 anni. Raimondo Salamone, 56 anni. Giovanni Grisola, 64 anni. Joachino Salvaggio, 47 anni. Settimio Enrico Barraco, 47 anni. Ai domiciliari ancora gli agrigentini. Elisabetta Giglia, 26 anni. E Francesca Luparello, anche lei di 26 anni. Poi Salvatore Palilla, 38 anni, di Siculiana. Salvatore Sprio, 36 anni, di Aragona. E infine Rosario Ciurca, 47 anni, originario di Caltanissetta, ma residente ad Agrigento, che risponde della ricettazione di 250 porte di presunta provenienza illecita. Il dato più importante di questa operazione è sicuramente questo, quello di cercare di restituire un minimo di credibilità e di fiducia negli scambi commerciali e nelle attività di impresa. Nella libertà di iniziativa economica e delle attività di impresa. Io desideravo nell'occasione ringraziare la procurazione pubblica di Agrigento, con la quale abbiamo una proficua collaborazione. E grazie al loro impegno e supporto riusciamo sempre ad aggiungere in tempi rapidi alla soluzione di difficili reati contro l'amministrazione della giustizia, del commercio, eccetera.